28 dicembre 1979. L'Unione Sovietica invade l'Afghanistan. L'obiettivo di Brieshnev è quello di insediare a Kabul un regime comunista fedele a Mosca. L'invio dell'Armata Rossa in Asia Centrale inasprisce le tensioni della guerra fredda. Dieci anni dopo, l'Unione Sovietica si vedrà costretta a ritirare le sue truppe dopo aver subito ingenti perdite in uomini e mezzi. Le cifre ufficiali parlano di 15.000 morti e 50.000 feriti.